Wella ragazzi, ciao a tutti da Nick, bentornati qua su Ark Survival Evolved, ragazzi, nella mappa Lost Island Come sempre, prima di cominciare vi vado a ricordare che in descrizione ci trovate più di un link che vi permette di comprare questo gioco se può interessarvi In descrizione ci trovate i miei social, i miei canali Telegram, TikTok e così via E poi mi raccomando ragazzi, se vi iscrivete al canale ricordatevi di attivare la campanellina così ricevete una notifica ogni qualvolta carico Un nuovo video sul canale Allora ragazzi, oggi siamo diciamo pronti per creare le 18 selle di tirannosauro Cominciamo quindi a prepararci Oggi andiamo anche a creare una nuova armatura per noi stessi Magari anche un'arma Insomma, oggi si deve craftare perché lo devo fare solo una volta e tra poco capirete il perché Allora, innanzitutto devo andare a preparare un 300 di stimolanti Dico 100 ma mi sa che ne saltano fuori di più Quindi, vediamo, è di fatti Quindi andiamo a creare un po' di stimolanti Almeno un 300 A magari anche 400, dai Magari un 400 Va bene così Va bene così Ok, questi stimolanti mi servono per creare un tonico da mangiare E lo andiamo subito a creare Ah, comunque a me servono un po' di carne No, mi servono un po' di carote per me Da mangiare Ok Allora, dunque raga Come potete notare Nel mio inventario C'ho un'altra motosega Perché quella buona l'ho praticamente rotta Per raccogliere la pelle E questa pure è quasi rotta Vi faccio vedere qua Questa qui Guardate com'è Com'è tutta rotta Cavolo Richiede un mucchio di materiali per ripararla E questa pure non sta messa tanto meglio Allora, vabbè Perché appunto la pelle mi serve per creare le armature Allora, andiamo un attimo a mollare lui Perché tra poco non riuscirò più a trasportare niente Tra poco io con il peso non riuscirò più a trasportare niente Quindi devo un attimino svuotare il mio inventario Perché tra poco non mi muovo più Allora Andiamo a creare due tonici scervellatori Non qui, qua Nel fuoco da campo Nel fuoco da campo Andiamo a creare due tonici scervellatori Praticamente il tonico scervellatore Va a resettare i miei punti Quindi accendo E come potete notare Stiamo creando due tonici Uno mi serve adesso E il secondo mi serve per Tra poco capirete Comunque Ogni tonico richiede 24 di carne pregiata cotta 20 fiori rari 20 funghi rari 200 miglior bacche 72 narcotici 62 stimolanti Allora Quindi questo tonico scervellatore Praticamente va a resettare Tutti i punti che ho qui Come se ricomincio da capo Come se io ricomincio da capo Anche tutti i punti che ho speso qui Li perdo Li devo riapplicare Perché faccio questo? Perché resetto il mio personaggio? Resetto il mio personaggio perché Dobbiamo mettere tutti i punti che abbiamo Li mettiamo tutti su abilità di creazione Dopodichè possiamo creare Armature e selle mega potenti Quindi lo facciamo per creare armature potenti Allora aspettiamo un attimo che mi fa il secondo tonico E il secondo tonico lo mettiamo nel frigo Perché ovviamente scato Scate dopo 15 ore Nel frigo dovrebbe durare un bel po' Vabbè Cominciamo ad applicare Questo tonico Allora sei sicuro? Sì Ok come potete notare adesso Ho 106 punti disponibili Questi 106 punti Li vado a mettere tutti Su abilità di creazione Tutti Dopodichè andremo a creare Le selle E andremo anche a creare Armatura E quant'altro Ok Allora vado a sbloccare magari qualche cavolata Devo solo sbloccare qualche cosa Che magari può tornarmi utile Era finita la polvere pirica Si era spento il fuoco Allora raga Quindi Mazza quanta luce che c'è qua dentro Andiamo a creare Allora Vi faccio vedere dunque Qui dentro ho preparato i progetti Allora ci abbiamo L'elmo da fare Perché il mio elmo è più scarso Vedete 270 quasi di armatura Mentre questo parte da 900 di armatura Ma in realtà parte da 900 Ora grazie all'abilità di creazione Verrà fuori un elmo migliore di 900 Poi la pettorina Guardate Qui ne abbiamo una da 700 Mentre la mia è da 320 Allora Per quanto riguarda i guanti Invece Non abbiamo niente da fare Perché L'unico progetto buono che ho È questo da 200 Ma io ho già trovato Dei guanti da 462 Quindi non devo Craftare guanti Per quanto riguarda Le scarpe Niente per le scarpe Niente pure Perché quelle che abbiamo Attualmente Sono migliori Quindi le vado solo a riparare Le scarpe attuali Sono migliori Vediamo invece Per i gambali 362 Sì I gambali Ce li abbiamo migliori Poi raga Guardate qui Che bel fucile A pompa ho trovato 584% Una bestia Questo qui Lo dobbiamo creare Questo qui Con un colpo Se viene fuori Un bel fucile Questo con un colpo Ammazza pure Un tirannosauro Di livello 140 Poi Il progetto Sella tirannosauro Ovviamente C'ho anche il progetto Sella stegosauro Devo andare a controllare A proposito Lo stegosauro Che abbiamo noi Che tipo di stegosauro Eh Mi pare che ce l'ho ancora Qui lo stegosauro Stegosauro Devo spostarli Comunque Da qui Li devo spostare Di là Allora Questi Dalli a me Converti Andiamo a controllare Brevemente Questo stegosauro Raga Che tipo di sella Ha Se mi conviene Creare a lui Una sella A questo Non ce l'ha Proprio La sella Lasciamolo fuori Questo stegosauro Così Gli facciamo Una sella Quindi la sella La devo proprio Fare Perché non ce l'abbiamo Potrei dare un'occhiata Se per caso Una sella Ce l'ho Magari Di quella Buona Chi lo sa Ovviamente Raga Prima di craftare Cose Controllo Se per caso Ce l'ho già Allora Stego Ne abbiamo Una scassa You tiranno You tiranno Non ne ho Ma forse che Lui la indossa Già Fammi vedere Lo you tiranno Boss You tiranno Ce l'hai la sella Ah Ce l'ha Scarsa Devo vedere Allora Raga Cosa posso fare Per lo you tiranno Perché Non ho una sella Per you tiranno Non ce l'abbiamo Un progetto Mi pare No E' un bel problema Non ho la sella Buona Per lo you tiranno Allora Io vi stavo a dire Ragazzi Che ho un'altra partita No Io gioco anche Su twitch In live Ho una mia Serie a parte Di arc Vorrei andare A vedere In quella serie Se per caso Ho un progetto Di Sella Per You tiranno Di quella Buona Vi faccio un attimo Vedere allora La mia Partita Di twitch Quella che porto Su twitch Diciamo Se non lo sapete Raga In descrizione C'è il mio canale twitch Di solito Tutte le sere Alle 21 Vado in live E al momento Sto portando Arc E farming In live Su twitch Ora vi faccio vedere Un attimino Qui Qui ovviamente Pure Sto a fare Tante cose Vediamo se qui Ho un progetto Di sella Per you tiranno Che posso eventualmente Portarmi Nell'altra Serie Di youtube Così Magari Possiamo Craftare Una buona Sella Per you tiranno Potrei anche Craftarla Qui Volendo Perché tanto Anche qui Sto a fare Le stesse cose Diciamo Allora Questa è la mia serie Di twitch Questa è la mia serie Di twitch Qua pure C'è un po' Di cose Un po' Così Eccola Questa è la mia A casa Su twitch Allora Vediamo un po' Non voglio perdere Troppo tempo Vediamo se qui Ho una sella Per you tiranno Che non ce l'ho Una sella per you tiranno Porca miseria Neanche qua S'ho fortunato C'è giusto Questa Che non è Non è tutto Sto granché Ma sa che pure Qua Stiamo messi male A sella di you tiranno Oh sella per you tiranno Leggendaria Che è già meglio di niente È già meglio di niente Meglio di quella Che abbiamo attualmente Di là Ah beh Potrei craftarla Pure qua Dai Tanto pure qua I materiali ce li ho Facciamo questa leggendaria Qui Qui di fatti Ho già le selle Pronte Per il tirannosauro Già craftate Allora vediamo Se me la fa craftare Sella per you tiranno Crea uno Questo allora Non mi serve Speriamo che Salta una buona Sella Porca miseria 1500 perle 16% Potevo uscire meglio Provo a farne Un'altra Accidenti Quante perle Che ci vogliono Mi sa che più di questa Non riesco a far Ci vogliono Un botto di perle 16% 30% Va bene Ci accontentiamo Di questa Ok Allora Eh pure qua C'ho problemi Allora andiamo Un attimino A spostare Questa sella Così che Ce la portiamo Nell'altra serie Quella Che porto su youtube Per l'appunto Ok Almeno mi sono risparmiato I materiali Di là Messa la sella Qua dentro Stiamo a posto Ok 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 raga Allora Questa è la mia Casa Su twitch E' sicuramente Più grande Di quella Che c'ho Nella serie Di youtube Ma ovviamente Su twitch Ho più tempo Per creare Sta bene Allora Qua pure C'ho gli artefatti Va bene Allora Torniamo Nell'altra serie Nella nostra serie Di youtube Ok Rieccoci qua Andiamo a prendere La sella Questa cosa Questa cosa è molto bella Che posso spostare Oggetti Da una partita Ad un'altra partita Le partite Sono completamente Diverse Però gli oggetti Li posso spostare Da una partita All'altra I personaggi Sono diversi E' tutto diverso Però per fortuna Posso spostare Gli oggetti Ok Allora La sella Dello you Tiranno Creato Da nick Vabbè Sempre io sono Allora La sella L'ho creata E la andiamo Ad applicare La andiamo A mettere Al nostro You tiranno Almeno Quello you tiranno Ben o male Siamo a posto Nell'altra serie La sella Ce l'ho Del tipo Ascendente La migliore Però purtroppo Non ho il progetto Avete visto Che progetto Non ne ho Questa è la meglio Sella Che posso avere Per ora Direi proprio Allora La sella Eccola qua Sicuramente Meglio Questa è È da 62 Queste Da 96 96 punti A proposito Di punti Allora Allo you Tiranno Gli diamo Parecchio Vigore E tanta vita Spero che va bene Spero che possa Andar bene 31.000 Di vita E tanto Vigore Perché Quest'animale Consuma molto Vigore Quando usa La sua Abilità Quindi Lo You Tiranno È pronto Forse ancora Qualche livello Lo può fare È quasi pronto Allora Lo You Tiranno È quasi pronto Per affrontare Il boss Cartella Boss Qua dentro Ci mettiamo Lo You Tiranno Mentre Per quanto Riguarda Invece Per lo Stego Dobbiamo Creare La sella Allora Andiamo A craftare Siamo Più Che pronti Per craftare Cominciamo Proprio Dalla Sella Dello Stegosauro Mi pare Che si fa Qua dentro Stegosauro Crea Una Cosa Richiede Ok No Vabbè Questa Ne posso Creare Tantissime A parte La pelle Ne chiede Un botto Allora Grazie Al fatto Che ho Speso Un mucchio Di punti Su abilità Di creazione La sella Avrà Un bonus Di base È 96 Virgola 8 Ma È da 124 È venuta Fuori Una sella Migliorata Del 38 Per cento Il meglio Che mi può Venire fuori È una sella Migliorata Del 50 Per cento Ah io direi Che va bene Così Perché comunque Richiede tanta Di quella Pelle Che non Posso Sprecare Perché Adesso La sella La sella Del tirannosauro Ogni sella Richiede 16.000 Di pelle Quindi Capite bene Che è Tanta roba Allora La sella Per lo Stegosauro L'ho creata Mi va bene 38% È ottimo Andiamo a posare Il progetto Della sella Dello Stegosauro Andiamo a produrre 20 selle Per tirannosauro Perché 20 selle Perché Praticamente Alcune Vengono Buone Alcune Vengono Scarse Quindi Andiamo Ad eccedere Eccediamo Sella Per tirannosauro Famone 20 Ecco qua Te Guarda quanta Roba Che ci vuole Te guarda Quanta roba Che ci vuole Sella per tirannosauro Crea tutto Voi Mi raccomando Ok Se rimango qua Tecnicamente Guadagno punti Esperienza O sono arrivato A livello massimo Come Ah io già Sono arrivato A livello massimo Come esperienza Allora È inutile Non ho più Esperienza Da guadagnare Converti Stegosauro Eh Stegosauro Tanta vita Mi pare Gli devo dare Comunque Sella Per Stegosauro Vai Lo stegosauro Deve Ok Anzi Forse 20.000 Neanche ci basta Mi sa Ancora Questo animale Deve fare Esperienza Vabbè Per ora Però La sella Ce l'ha La sella Ce l'ha E un bel po' Di punti Glieli ho Applicati Devo far livellare Ancora di più Comunque Questi animali Non sono pronti Con i livelli Questi animali Allora Boss Andiamo a vedere Se mi sta facendo Tutte le quelle Selle Ancora sta Craftando Allora Questa è Scarsa Buona Buonina Scarsa 8% 22 8% 35 28 15 16 23 Mamma mia Stanno uscendo Selle Veramente Scarse Il problema Il problema È che Non ne posso Fare Altre Perché La pelle Non è che Ne abbiamo Tantissima L'ho quasi Finita L'ho quasi Finita La pelle 16.000 Per ogni Sella Posso fare Forse Altre Due Selle E Non le Posso Fare Perché Ancora Devo Creare L'armatura Pure Il fucile Anzi A proposito Il fucile Lo posso Fare A prescindere Mettiamo Il progetto Qua Dentro Vediamo Se ne posso Creare Uno Mi Manca Un po' Di Polimero Ok Il polimero Non è un Problema So dove Farlo Il polimero Lo andiamo A fare Il polimero Si va Nel deserto Per farlo Ora Tra poco Ci andiamo Anzi Ci andiamo Subito Tanto Che fretta C'è Con le Selle Qua Ancora Mancava Un 3 400 Di polimero Non piglio L'animaletto Per volare Perché in realtà Mi appesantisce Con i punti Spesi Così E' Ma vola O no Ecco Nel deserto Non sopravvivo Granché Nel deserto Muoio di caldo Perché Resettando i punti Mi si è abbassata Ecco Mi si è abbassata La resistenza Non ho Una grande Resistenza Al caldo Mo ci schiatto In fretta Qua Quindi Cerchiamo Di fare Un po' Di polimero Alla svelta Allora Il polimero Si fa In due modi O lo si Crafta E richiede Un botto Dei materiali Oppure Uccidendo Le mantidi Le mantidi Ci danno Il polimero Organico L'unica Differenza È che Il polimero Organico Scade Non è Non dura In eterno L'unica Differenza Lì c'è Una mantide Ecco 136 Di polimero Organico Buono Se becco Altre Due Tre Mantidi Ho risolto Il problema Dovrei avere Il polimero Certo Posso creare Solo Posso creare Ho solo Un tentativo Devo sperare Che mi esce fuori Un fucile potente Ho solo Un tentativo Perché poi capite bene Che se voglio Riprovare Se voglio Riprovare Di nuovo A creare Un'arma Mi serve Di nuovo Un 3000 Di polimero Che Richiede tempo Allora Riproviamo Eccolo qua Vedete Il polimero Organico Perfetto Crea Uno Speriamo Che viene fuori Un fucile 40% Diventa Una bestia Mille di danno Vorrei Dai Dammi un bel fucile Su Beh no E' buono Cavolo E' giusto Più 50% E' una bestia E' buono E' buonissimo E' buonissimo E' venuto Proprio Buono Ottimo Più 50% Cavolo Allora Le selle Le ha fatte Non ne posso Creare altre Perché Non ce la famo Non abbiamo Più pelle Quindi Ci dobbiamo Accontentare Di quello Che abbiamo C'è ancora Un po' Di pelle Ma E' poca E qui Ancora C'ho da Craftare Armatura Cose varie Allora Cominciamo Dall'elmo Speriamo Che esce fuori Un elmo Almeno 40% 30 Quanto Mi costa Vabbè Costa poca Pelle Se può Provare A farne Un altro Già Questo Comunque Non è male 30% 30 44 Bono Ridammi Il progetto Progetto Pettorina Allora Questo è quello Più scarso Mi pare O no 30 Allora Indossiamo L'elmetto Nuovo Armatura 1254 Contro 270 Allora Pettorina Crea Uno Speriamo Che questa Pure Viene Un 40% 36 Fanne Un'altra E ovviamente A fortuna Niente 11% 13 Vabbè Ma contento Del 36 Dai Che sempre C'è una bella Differenza Ok E poi per finire Mancano I gambali Ok Raga Alla fine Il meglio Che è venuto Fuori È questo Dopo tanti Tentativi Quasi 29% È il meglio Che è venuto Fuori Allora Questo Lo butto E va bene Allora Non butto Gli extra Magari scopro Un modo Per riciclarli Qualcosa di simile Perché comunque Con quello che costano Se posso Riciclare Questi materiali Va bene Allora Mi pare Che ho craftato Più o meno Tutto Se uso Il tonico Scervellatore In pratica Vado a Col tonico Scervellatore Posso Rimettere I punti Come voglio Però Però Magari Voglio aspettare Ancora un po Magari Mi salta fuori Un progetto Un qualcosa Non ho fretta Di rimettere I punti Non ne ho Non mi va Di avere fretta Per ora Vorrei giusto Andare a provare Questo Anzi vogliamo fare Una prova Ancora più estrema Brontosauro Livello 95 Il brontosauro E ancora Piuttosto Il brontosauro Ragai Ancora Piuttosto C'ha Un botto De vita Vediamo Ragazzi Come va Contro Il brontosauro Due colpi Due colpi Ragazzi Praticamente Con un colpo Gli abbiamo tolto Tipo Settemila Di vita Con un colpo Oh Qui ce n'è uno Vabbè E' scarso Ma è pur sempre Vabbè Ovvio che ci muore Ovvio che ci muore Ma che te urli Muori Un colpo Le saluto È morto Va bene Ragazzi Abbiamo un fucile Strapotente Allora Io non mi va Adesso Di mangiare L'altro Tonico Scervellatore Solo perché Magari C'è qualcos'altro Che posso Craftare Non so Forse magari Potrei craftare Altre due Selle Per tirannosauro Non lo so Anche se Il rischio è Che comunque Vengono scarse E ci perdi materiali Però Diciamo che Non mi va Adesso Magari C'è qualcos'altro Che mi sfugge E dovrei creare Quindi non mi va Di usare adesso Il tonico Scervellatore Piuttosto Questo però Lo andiamo a mettere Nel frigo Perché se no Scade Quando poi Arriva il momento Lo uso Ora messo qua Mi dura 60 giorni Va bene Ragazzi Io concludo Il gameplay Spero vi sia piaciuto Come sempre Commentate Iscrivete Lasciate un bel Pollicione in su Ci becchiamo presto Ragazzi Ciao alla prossima Ciao alla prossima